Ciao, parliamo del 90 macro. Questi sono tutti i video ovviamente presi da notti, notti recensori, testate giornalistiche eccetera. Io non ho la possibilità di avere questo obiettivo in anteprima ovviamente. Vediamolo, è una lente piuttosto interessante, importante. Ne ho già parlato velocemente tramite i leak che erano già stati diffusi in rete in precedenza. Andiamo a vederlo velocemente, soprattutto grazie ai video di chi l'ha recensito. Abbiamo un obiettivo che come avevo già riportato è lungo 136 mm, quindi 13 centimetri e mezzo. Ed è largo 7 centimetri, 80 mm. Questo obiettivo è interessante, vediamo subito, abbiamo la pulsantiera laterale dove abbiamo le distanze di messa a fuoco limitate, il limitatore della messa a fuoco. Questo è simile anche ad altri obiettivi, simile al 300 e simile ma diverso al 60 mm. Il 60 mm ha una rotellina, però il funzionamento è lo stesso. Abbiamo lo stabilizzatore nella lente, che può essere acceso spento ovviamente. Abbiamo un terzo pulsante, il pulsante funzione, che potrebbe essere utile ad esempio se lo vogliamo mettere con il peak per vedere quello che è a fuoco in rosso. Oppure è un pulsante funzione, gli possiamo segnare qualsiasi funzione vogliamo. Voglio riportare subito una cosa molto interessante e molto importante da sapere. Questo obiettivo può essere montato con entrambi i moltiplicatori, l'1.4 e il 2.0 e questo fa sì che l'obiettivo ci permette di ottenere un ingrandimento ancora maggiore rispetto a quello che ci dà adesso. Il 90 macro dà un ingrandimento massimo di 2x, si può considerare equivalente ad un full frame ad un 4x, quindi il ingrandimento è molto pronunciato. Moltiplicandolo con il moltiplicatore 1.4 diventa un 5,6x e col 2x diventa un 8x, ovviamente riferito al full frame. In questa posizione la lente raggiunge il suo massimo di ingrandimento. La cosa veramente curiosa è che al suo massimo di ingrandimento il diaframma passa da 3,5 a 5 e con i moltiplicatori passa a 7 quando si ha l'1,4x e a 10 quando si usa il 2x. Quindi praticamente abbiamo una lente che messa nella sua posizione super macro, nella sua posizione massima di ingrandimento, chiude il diaframma da 3,5 a f5. Questo è da sapersi, ovviamente nel settore macro questa cosa importa e non importa perché comunque si tende a chiudere moltissimo e quando invece l'obiettivo lo si utilizza in altri ambiti, quindi nelle altre lunghezze focali, ha un 3,5. Un'altra cosa che voglio farvi vedere interessante è il clutch, in questo video è visibile, che praticamente ci dà la possibilità di impostarlo, di vedere il fattore moltiplicativo dell'obiettivo direttamente nel clutch. Ci riguardiamo un attimo, vedete qui c'è il moltiplicatore 2x e abbiamo la distanza minima di messa a fuoco che è 0,22 metri, 22 centimetri e mezzo, 22 centimetri e 4. Questa è la distanza minima di messa a fuoco dove si ottiene l'ingrandimento massimo. Man mano che ci allontaniamo raggiunge il fattore moltiplicativo più basso, questa è una cosa normalissima nei obiettivi macro ovviamente. E la cosa interessante è che il fattore, la distanza minima di messa a fuoco è 22 centimetri e mezzo, 22 centimetri e 4. Basta arrivare a 25 centimetri, quindi 2 centimetri e mezzo più lontani perché il fattore moltiplicativo diventi 1x, come lo zuico 60 mm per intenderci. Comunque questo avviene anche sullo zuico 60 mm e su tutti gli obiettivi macro, il fattore moltiplicativo è massimo alla sua distanza di messa a fuoco minima e poi man mano diminuisce. Questo è normalissimo, però abbiamo questa informazione esplicita da questo video e andiamo avanti a bomba sugli altri fattori. Abbiamo già parlato del fatto che possiamo usare i teleconverter e ovviamente qui c'è un esempio su una piuma di pavone. E' un esempio che tra l'altro ci permette di andare a vedere anche la resa con questo teleconverter e il fatto che ci sono dei potenziali fattori da valutare secondo me nel momento che la lente sarà disponibile nelle mani di chi la sa usare ovviamente, perché qui parliamo di una lente estrema, perché ovviamente i teleconverter sono sempre delle bestie che vanno domesticate e quindi possono creare varie varie aberrazioni, eccetera. Specialmente in una macro dove abbiamo degli ingradimenti estremi, questo è tutto da testare. Passiamo ad un altro video che è sempre di Deep Review, che ci fa un'interessantissima disamina della qualità, della nitidezza dell'obiettivo. Qui l'obiettivo è tutto aperto a tre e mezzo, il fuoco si guarda nel centro ed è estremamente eccezionale e dopodiché è andato a guardarlo anche sui bordi nello stesso scatto ed è estremamente eccezionale. Quindi un obiettivo da quello che viene riportato da Deep Review, che ha centro e bordi estremamente nitidi, estremamente coerenti, già a tre e mezzo, se poi come è normale nelle macro chiudiamo un pelino diventa una bomba, ecco, una bomba, da questa recensione ovviamente. E ovviamente ce lo aspettavamo perché tutto costruisce delle lenti eccezionali, però la prova sul campo è sempre quella che poi dà il risultato vero. Andiamo avanti, altro discorso, sì, beh, questo è il classico video di Olympus, scusate, di OM Digital Solution, che ci fa capire che per utilizzare questa lente dobbiamo essere tutti Indiana Jones, perché ovviamente il bravissimo fotografo a fare questo video gira nella giungla e vabbè. Ovviamente questa è una lente super tropicalizzata, addirittura anti-freeze, una cosa che ho già detto nell'altro video quando abbiamo parlato dei leak. Ovviamente OM Digital Solution marcia un po' su questo aspetto. La lente, secondo me, si vede bene nelle mani del fotografo, è una lente abbastanza lunga, non estremamente grossa, ma diciamo più o meno nelle dimensioni di un 12-40 come diametro del barilotto. Una cosa che è interessante da notare è che la lente, vediamo se la trovo in un altro frame, la lente frontalmente non occupa tutta la dimensione dell'obiettivo. Quindi praticamente è un caso un po' curioso, normalmente siamo abituati a vedere obiettivi in cui la lente occupa tutta la dimensione dell'obiettivo. In questo caso la lente è più piccola. In ogni caso rimane abbastanza lunghetta, 136 cm, diametro 70, il peso è 450 grammi, quindi 50 grammi in più del 12-40. Altra cosa interessante da dire è che mi sono dimenticato, quando si mette nella distanza focale tra infinito e 25, infinito e 25 o anche quella da 25 a 5, a 0,5 metri, l'autofocus è molto veloce. Quando invece si mette nella zona super macro, l'autofocus rallenta. Questa è una cosa tipica dei macro, i macro ovviamente nella regione macro devono avere una corsa molto lunga, perché ogni millimetro, ogni decimo di millimetro conta, però questo obiettivo praticamente ha una corsa diciamo normale nel range di focali normali e una corsa da macro quando si mette nella modalità macro. Questo fa sì che praticamente la lente ci permetta di essere utilizzata come lente anche da ritratto o da super fello obiettivo nell'utilizzo diciamo da mezzo metro in avanti, se ho capito bene forse anche da 25 cm in avanti, a verso infinito, però quando poi si vuole andare da 25 cm fino al suo massimo, che abbiamo detto essere 22 cm e mezzo, in questo caso si sentono spostare degli elementi interni e l'obiettivo diventa macro a tutti gli effetti, a tutti gli effetti anche perché passa da 1x a 2x, quindi è questo il punto in cui un macro si definisce macro. Ok, facciamo un'altra curiosa disamina della profondità di campo, questa è una cosa che mi incuriosisce sempre, un obiettivo macro utilizzato al suo massimo, abbiamo detto essere 22,4 cm, chiuso abbiamo detto a 5 perché in questo caso la sua massima apertura nella regione macro a 22,4 cm, quindi a 2x e f5, f5 ci dà una profondità di campo totale di 0,06 cm, cioè 0,6 mm, cioè non arriva ad avere una profondità di campo di un millimetro, è poco più di mezzo millimetro, questo è, ovviamente questo potrebbe essere qualsiasi 90 macro, non è questo ma 90 macro, un qualsiasi generico obiettivo 90 mm macro con una distanza di 22,4 cm, sulle nostre macchine micro 4 terzi ci dà una profondità di campo di 0,6 mm. Se mettiamo il teleconverter 2x non arriva a un millimetro di profondità di campo, cioè una cosa stamentosa e ovviamente bisogna iniziare a chiudere, a chiudere come dei matti, a chiudere f11, per esempio a f11 arriviamo a 0,2 mm di profondità di campo, quindi già questo fa capire, al di là del 90 macro nuovo, che qualsiasi macro spinto a questi estremi è di difficilissima utilizzazione. Allora togliamo il teleconverter f11, che è di solito diciamo il diaframma che si usa magari nella macro fotografia, a f11 abbiamo ben 1,3 mm di profondità di campo, che ovviamente è pochissimo e qui ci viene in aiuto il fatto di poter utilizzare il focus stacking o il focus bracketing. Il focus stacking sappiamo che crea il JPEG finale direttamente in camera, il focus bracketing ci permette di scattare fino a 99 o 999 scatti e poi però lo stacking finale lo dobbiamo fare al computer, mentre invece il focus stacking viene fatto in macchina, però c'è un limite di massimo 15 scatti. Ora con un obiettivo 90 mm anche chiuso a f16, avendo una profondità di campo di 1,8 mm, il focus stacking in macchina potrebbe non essere sufficiente, quindi bisogna fare magari il bracketing, il focus bracketing, fino magari a una cinquantina di scatti per ottenere qualcosa in più, per ottenere qualcosa di utilizzabile. Questo ovviamente è nel punto massimo, e in più ci rendiamo conto che è molto probabile che dobbiamo utilizzare delle luci aggiuntive, quindi dei flash o delle luci continue, perché dobbiamo chiudere veramente tanto. Ma questo non è un problema di questo 90 macro, questa è una caratteristica tipica di tutti i macro, ecco che se però io adesso vi porto il 60 macro, abbiamo ben 3,5 mm a f11, compariamolo col 90, abbiamo 0,13. mi sembra interessante come comparazione, adesso magari faccio una cosa figa, metto i due comparatori vicini, abbiamo il 90 macro f11 con la sua profondità di campo a 1,3 cm, e mettiamolo comparato col 60, e il 60 macro f11 sempre, ci dà 3,5 cm. Abbiamo anche questo qui vicino, eccolo qua, quindi qui abbiamo la differenza fra un 90 macro a f11 e il 60 macro a f11. il 60 macro praticamente è più del doppio di profondità di campo, questo solo per essere 90-60. Tra l'altro il 60 macro ha una distanza di messa a fuoco però più ravvicinata, non 22,4 cm, ma 19 cm, e quindi la comparazione giusta per ottenere il massimo di ingrandimento di un 60 macro, che è 1x, non 2x, è una profondità di campo di 0,23 cm, cioè 2,3 mm. Questo giusto per darvi dei dati oggettivi sul tipo di lente di cui stiamo parlando. A questo punto, chiudiamo i calcolatori. Bene, discorso caratteristiche tecniche direi super esaustivo, credo di aver detto più o meno tutto, parliamo del vero elefante nella stanza. il prezzo è ora 1.500 euro, prezzo piuttosto corposo, diciamolo, la lente è cicciotta, il prezzo è cicciotto. Cosa vogliamo dire? Beh, la lente è appena stata annunciata, costa 1.500, è tanto, è poco, non lo so, per me personalmente è tanto. Non per la lente in sé, è tanto in maniera assoluta, perché per me la macro è un tipo di fotografia che io faccio ogni tanto e abbastanza raramente e comprare un obiettivo da 1.500 euro per un utilizzo sporadico per me, per me non è giustificabile. Ho il 60 macro, l'ho pagato, usato bene, l'ho pagato bene e ad un buon prezzo non ci penso di passare dal 60 macro al 90 macro, però quello che mi aspetto è che nel giro di un anno si trovino questi 90 macro dei prezzi più accessibili, magari usati, o semplicemente il prezzo magari viene abbassato come avviene normalmente, perché dopo passano un certo numero di mesi e si abbassano oppure se ci sono delle offerte e dei cashback con l'OM digital solution fa spesso, riuscirò un giorno a non dire Olympus, non credo, perché la marca ormai è troppo e troppo nel cuore, comunque, 90 macro, lente, bellissima, specialistica, in una maniera estrema, e questo anche che dobbiamo considerare, quando prima ho fatto tutto il ragionamento sulle profondità di campo, l'ho fatto per un motivo, analizzare per chi questa lente è destinata, a chi è destinata, questa è una lente per chi sa fare macro e la utilizza, diciamo, se vogliamo, anche quotidianamente, è una lente estremamente specialistica, la stessa cosa avviene, per esempio, se voi andate su un'altra marca, c'è una marca famosissima che si chiama Canon, che ha un 180 macro, che è praticamente l'equivalente, perché questo è 90, moltiplicato 2 fa 180, stiamo parlando dello stesso tipo di utilizzo, campo di utilizzo. Bene, anche quell'obiettivo lì, che tra l'altro ce l'ha un mio amico, quell'obiettivo lì è difficile da usare, perché comunque sono lenti, con una lunghezza focale molto pronunciata. Profondità di campo molto, molto breve, molto piccola, e comunque vanno considerati che essendo un 90, questo qui, però moltiplicato per 2 per una nostra focale, teoricamente andrebbe usato ad un reciproco della focale, un tempo di scatto reciproco della focale di un centottantesimo, almeno, siccome la macro è una fotografia estrema, io consiglierei di usare tempi di scatto anche più brevi. Ora, poi in più dobbiamo chiudere il diaframma tantissimo per avere un po' di profondità di campo, ecco che qui siamo siamo in un ambito estremo della fotografia che va conosciuto, va saputo utilizzare, va saputo utilizzare le luci, il flash, la luminositiva continua, va saputo, bisogna sapere come, come fotografare con queste lenti. Non è una lente che io consiglierei a uno che di macro non ne sa niente o che di macro ne fa una ogni tanto come ad esempio faccio io. Seppure io di macro ne faccio ormai da tanti anni, non mi troverei forse a mio agio con una lente così estrema, così specialistica. detto questo, è una lente che sinceramente mi fa salire la scelta, perché è veramente, veramente costruita proprio bene come andrebbero costruite le lenti. mio personale parere le lenti andrebbero costruite così bene. E adoro la pulsantiera, adoro il fatto che abbiano messo i controlli in questo modo qui, che corrono tantissimo al mio 300 f4, mentre nel 60 mm i controlli secondo me non sono così comodi da utilizzare, anche perché il 60 mm è una lente più piccola e i pulsanti sono a rotellina e quindi specialmente se si hanno i guanti in inverno o in condizioni difficili, riuscire a girare la rotellina per mandarlo a 1x è un po' scomodo. Quindi questo tipo di obiettivo con anche il clutch che permette di portare l'obiettivo a 2x velocemente e a vedere le distanze di messa a fuoco per me è proprio quello che rende questo obiettivo oltre alla sua qualità interna ma rende questo obiettivo un vero strumento per diciamolo professionisti o veri appassionati del settore se siete veri appassionati del settore questo genere di pulsanti di clutch sono esattamente quelli che vogliamo ecco vabbè l'abbiamo detto costa tanto magari aspettiamo che il prezzo calio ci sia un'offerta o magari qualche duro lo compri non ne sia contento e lo rivenda subito ad un prezzo già generatamente basso ovviamente non succederà però secondo me è proprio uno di quegli obiettivi che chi è un appassionato di macro fotografia spinta sicuramente qui gli sale proprio la scimmia ma di brutto va bene lunga lunga disquisizione su questo concetto spero di aver detto tutto quello che mi è venuto in mente e mi raccomando trasformatevi tutti in Indiana Jones come fa il fotografo Olympus perché una volta che avete speso il 1500 euro dovete almeno spenderne altrettanti per andare nella giungla a fare le fotografie alle ranocchie ovvio no ciao